Le indagini sono in corso, si sta lavorando, l'ufficio ha preso molto a cuore questa vicenda, quindi sono in corso tutti gli accertamenti necessari. Sta lavorando passo dopo passo la procura di Vicenza sulla vicenda del batterio killer Chimera, che in Veneto ha fatto sei vittime, di cui quattro a Vicenza. L'inchiesta è in mano al PM Parisi, che fa parte del pool di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Rietta Canova, che si occupa di reati legati alle attività professionali, dopo il primo atto dettato dall'urgenza, ora lavora per tutti quelli che vengono definiti accertamenti collaterali, il che significa che oltre a indagare sulla morte dell'anestesista Paolo Demo, i magistrati dovranno ripercorrere tutta la catena di soggetti che hanno avuto a che fare con il dispositivo, con chi ne è venuto a contatto anche come paziente. Non si escludi in futuro il sequestro di cartelle mediche dello stesso dispositivo. Nel momento in cui sarà necessario verranno acquisite anche tutte le documentazioni sanitarie relative, però è un lavoro che deve essere fatto step by step. Da accertare ad esempio come mai il dispositivo all'ospedale di Vicenza sia stato sostituito solo nel maggio del 2017, quando l'azienda costruttrice, già nell'estate del 2015, aveva scritto a tutte le strutture ospedaliere che ne erano dotate, avvisandola del rischio. Da qui la decisione della Procura Berica di indagare per omicidio colposo due ex direttori sanitari dello Slotto. A dare avvio all'indagine e all'esposto dei familiari di Paolo Demo, e fondamentale è stato il suo diario di due anni di Calvario. Fa parte dei documenti importanti e necessari per la valutazione di tutta la vicenda, quindi è un caso anche del tutto particolare avere potuto avere una documentazione di questo tipo, e quindi ha il suo peso, però poi attraverso questa abbiamo l'occasione per conoscere e poter andare ad approfondire altre strade.